Sono passati tantissimi anni dalla prima volta che sono entrato in questo locale e mi ricordo che ero giovanissimo e a stento mi facevano entrare. Pensate che è molto simpatico da dire ma mi nascondevo nella fila tra i miei amici che erano quelli un pochino più grandi, amici che avevano la macchina al tempo e la macchina non ce l'avevo e quindi erano loro che appunto mi portavano, mi hanno portato per la prima volta al Tenax. Ricordo che la prima volta che sono entrato in questo posto è stato per me incredibile, è stata un'emozione incredibile perché questo è il locale dove io mi sono innamorato della musica elettronica e è stato un amore a prima vista, è stato un locale leggendario che da circa 30 anni si impone nella scena italiana ed europea, è un locale che è stato fondamentale per la crescita della scena elettronica in Italia, in Europa e in questa console hanno suonato i DJ più importanti del pianeta, i DJ più importanti del mondo, quindi questa è una console che ha un'energia e un'anima unica e particolare. Io sono entrato in questo locale dove ho avuto appunto tanti anni fa l'opportunità di esibirmi, chiaramente partendo dal basso, iniziando a fare le prime aperture, i primi warm up, i primi DJ internazionali e per me era già un sogno, per me il Tenax era un locale, da me che provengo da una piccola città come Lucca, già riuscire a suonare in un locale come il Tenax per me era un traguardo inarrivabile, cioè vedevo questo locale come un sogno ed è un sogno per tantissimi altri DJ come me che aspirano, che hanno sempre aspirato a crescere, a fare e quindi sono partito dal basso cercando di intraprendere il mio percorso musicale che è durato anni e quindi a riuscire ad esibirmi in questo locale così importante. Questo sabato sarà sicuramente una nuova esperienza, una nuova esperienza all'insieme della musica. Per me potermi esibire nuovamente una serata o un night long sarà un percorso dove attraverserò diverse sfumature musicali e questo mi dà la possibilità di esprimermi al massimo e sicuramente tornare a casa è per me sempre una grandissima emozione, mi sento avvolto dal calore dei miei amici e delle persone a me più care. Suonare in questo locale è sempre una sfida, soprattutto per me stesso perché è una console unica e speciale per me, è la console che mi ha fatto innamorare della musica elettronica.